Terribile strage in Serbia, 8 morti e 13 feriti in una sparatoria a sud di Belgrado, ieri sera vicino alla città Mladenovac, circa 60 km a sud della capitale serba, Belgrado. Si è verificata una sparatoria che ha lasciato dietro di sé un tragico bilancio di 8 persone uccise 13 feriti. La notizia è stata riportata dai media statali che hanno precisato che il responsabile dell'attacco è stato arrestato dopo una massiccia operazione della polizia. Secondo le prime informazioni, un giovane uomo di 21 anni avrebbe aperto il fuoco con un'arma automatica da un veicolo in movimento e poi sarebbe fuggito. L'emittente TV RTS ha fornito questa descrizione del fatto di sangue che ha scosso il paese. Questa tragedia rappresenta l'ennesimo episodio di violenza in un'area che già in passato ha visto esplodere conflitti e tensioni, ma le autorità serbe hanno assicurato che faranno tutto il possibile per fare luce sull'accaduto e assicurare che i colpevoli paghino per i loro crimini.